Oggi vi presento il libro L'allieva di Canova di Ilaria Chia, edito da D'Amster Edizioni. Nella Bologna occupata dalle truppe di Napoleone, la figlia di un modesto pittore sogna di affermarsi come artista, sfidando il potere maschile e le convenzioni sociali. Per riuscire a farsi strada dovrà opporsi alla volontà dei genitori, che hanno pianificato per lei un altro futuro e, soprattutto, convincere lo scultore Antonio Canova, di passaggio a Bologna, ad accoglierla nel suo studio romano. Un romanzo ispirato liberamente alla vita della bolognese Carlotta Gargalli, 1788-1840, giovane promettente che ottiene un certo successo come artista per poi essere risucchiata dall'ublio. Tra amori non corrisposti e matrimoni rifiutati, gelosie e tradimenti, la pittrice riuscirà non senza fatica a ritagliarsi uno spazio nella Roma vivace e cosmopolita del tempo. Questo libro è La lieva di Canova, di Ilaria Chia, edito da Damster Edizioni. Grazie a tutti.